eufemismo le carte sul tavolo sparse a caso le dimentichiamo inconsuetudine e non serve lo sguardo che non ci sei mai riflesso in trasparenza senza volto forse non ci capiamo a prescindere mister monsieur saluti divertenti schianto di testa a piumbo contro il letto tra un tempo indiscreto e l'altro dovevo fare ciò che non ho fatto dovevo dire ciò che non ho detto a margine scaraventato a terra senza pietà neanche ci piace il ricordo e gli errori solitari inquieti non condivisi complesso odore la nostra passione come buio sotto casa urlato a salve da sta strana distanza a defedare